Preview 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 Sono state bravissime anche perché avevamo una formazione rimaneggiata senza libero e senza banda Abbiamo giocato con due palleggiatori, due opposti e un centrale solo per cui Molto molto brave, merito a loro che hanno saputo giocare bene e anche in difficoltà Gioca da quest'anno insieme, alcuni erano due anni che sono con me, altri vengono da quest'anno Mancava circa metà squadra però per impegni scolastici, infortuni o gite scolastiche Stagione è andata abbastanza bene nel campionato, siamo arrivati i sesti Meglio la Coppa perché comunque siamo riusciti con il lavoro fatto in palestra a giocare molto meglio